Mi pare di aver grito di venire a mangiare! Non ho fame! A venire fuori, altrimenti! Trago sulla porta! Non mi pare che questa sia la maniera a conquistare la signorina! Per piacere! Mi sa che si comporta con creanza! Ma quella! La fa così! La difficile! Con creanza! Con creanza! Vuoi venire a mangiare? No! No! Fiii! No! No!